Sono Frank Bellissimo, avvocato, specialista nei risarcimento, ma un che parla lingua di tutti i giorni. Con me è facile capirsi. E parlo chiaro, niente grandi promesse, solo difendo chi potrebbe avere diritto a un risarcimento o deve affrontare spese impreviste. Nell'interesse del mio cliente cerco sempre un accordo, ma se poi si deve andare in tribunale, non ha paura delle grandi ditte. Bellissimo Compensation Lawyers, siamo la tua voce. Grazie a tutti.